Credo di essere sicuramente molto orgogliosa perché lo sport mi ha dato dei valori incredibili che sono poi oggi maestri di vita non solo per la mia ma anche per i miei figli e la mia famiglia quindi davvero grande soddisfazione, momento di gioia, momento di sport, organizzazione davvero nel dettaglio quindi complimenti perché è davvero un gran successo. È stata l'ex pallavolista della Nazionale Azzurra Maurizia Cacciatori a guidare i tanti sportivi presenti all'appuntamento di sabato e domenica scorsi con il giubileo a loro dedicato nel santuario di San Gabriele della Dolorata di Isola del Gran Sasso che per la seconda volta ha ospitato il raduno per il centro Italia. La pallavolista bronzo e argento agli europei, oro ai giochi del Mediterraneo, quattro scudetti e tre Champions League vinte ha portato in dote la sua esperienza e la sua testimonianza ai centinaia di dirigenti, allenatori, arbitri ed atleti che hanno affollato il santuario di San Gabriele. Si vede lo sport sotto un'ottica spesso sottovalutata che è quello dell'andare incontro agli ultimi alle persone che hanno più la necessità di essere integrate e coinvolte e lo sport è uno strumento eccezionale in questo senso. Il Giubileo degli Sportivi infatti è stato un evento che sicuramente ha voluto dare questo spunto di riflessione uno spunto di riflessione che speriamo possa dare un senso profondo all'attività sportiva, alla pratica sportiva. Lo sport non è contro la Chiesa contro lo sport o lo sport contro la Chiesa, ma c'è uno sportivo italiano che dico un trait d'union, punto di raccordo tra lo sport e la religiosità e dei valori perché loro non cercano di formare dei campioni ma di formare prima di tutto delle persone. Poi tra queste persone usciranno anche dei campioni.